Un altro edificio pubblico è stato restaurato. Oggi il Comune di Pordenone consegna la nuova sede del giudice di pace al Tribunale di Pordenone. È un intervento importante che è stato portato a termine e che permette di poter avere una struttura nuova ed efficiente a servizio della nostra città e di tutta l'utenza. So perché essendo anche avvocato ed avendo passato molti anni all'interno di questo edificio quanto c'era bisogno di una ristrutturazione per mettere a norma l'edificio ma anche per poter utilizzare spazi più comodi sia per i giudici di pace che per le cancellerie che per l'utenza e per gli avvocati. Quindi un importante risultato di cui siamo contenti. Nelle parole del Presidente del Tribunale Lanfranco Maria Tenaglia la soddisfazione per l'acquisizione dello stabile. Oggi è un momento importante, riceviamo in consegna dall'amministrazione comunale questo immobile che sarà un elemento di ammodernamento della giurisdizione e del servizio giustizia nella provincia di Pordenone. Per questo devo ringraziare l'amministrazione comunale che è stata sensibile alle richieste fatte già dal mio insediamento di ristrutturare l'immobile originario. La ristrutturazione è stata fatta velocemente ed è molto funzionale. Questo dovrebbe consentire di trasferire tutti gli uffici del giudice di pace e alcuni uffici del tribunale. Quindi una nuova struttura che è moderna, efficiente e speriamo che possa essere a disposizione dell'utenza molto presto perché ci sono degli adempimenti burocratici da fare col Ministero in modo da arrivare rapidamente a cominciare a lavorare in questo stabile. Dello storico edificio è stato conservato l'originale aspetto architettonico e dal punto di vista strutturale, grazie a sistemi innovativi, sono state rinforzate le pareti, i solai e le coperture, adeguandoli rigidamente alle norme antisismiche. Ed ovviamente sono state realizzate le opere per il superamento delle barriere architettoniche. L'alta tecnologia utilizzata per gli impianti di riscaldamento, di raffreddamento e per il fotovoltaico elevano la qualità del risparmio energetico. Le sobrie tinteggiature interne e esterne conferiscono allo stabile un'immagine moderna.